La splendida Villa Signorini a Dercolano incontra le eccellenze agroalimentari cilentane. L'Oreficeria del Gusto è questo il titolo dell'evento che mette insieme produttori e commercianti per valorizzare e brandizzare le eccellenze del territorio cilentano. Ma un'esperienza che credo fondamentale sia quella di aprirsi ai grandi mercati, ai mercati cambani prima di tutto, come aprirsi con dei prodotti fortemente legati al territorio. Qui c'è l'esempio stasera di prodotti di nicchia che non sono di tipo industriale ma che rappresentano un territorio e vogliono attraverso i prodotti creare tutte quelle condizioni di sviluppo locale perché l'iniziativa privata credo sia fondamentale, il pubblico deve collaborare col privato, non possiamo immaginare che tutto venga dagli enti pubblici, credo che un territorio cresca se c'è anche una buona imprenditoria locale oltre che una buona classe politica. Quindi mettere insieme produttori, mondo del commercio, però commercio di qualità che immagina di conoscere anche il prodotto, quindi non un prodotto standardizzato ma un prodotto che si lega fortemente alle tradizioni del territorio credo che sia fondamentale anche se poi il territorio e i prodotti si sono evoluti nel corso del tempo adesso abbiamo prodotti eccellenti e anche sicuri anche dal punto di vista della salubrità dell'ambiente credo che il Cilento e le terre di Casagastra di cui noi rappresentiamo stasera la capacità di fare imprese, di produrre, credo che siano anche dal punto di vista ambientale una eccellenza della regione Campania.